Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su PlanetWin365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su PlanetWin365.news. Apple Gift Card is a practical gift that unlocks a world of entertainment and fun. You can send it via email or give a physical card to your loved ones. Your friends and family can spend it on their favorite Apple services, including Apple subscriptions. Apple Gift Card can be used to buy all things Apple. Products, accessories, apps, games, movies, TV shows, iCloud Plus, and more. Visit apple.com for details and to send Apple Gift Cards to your friends and family this holiday season. The holidays start here at Kroger with a variety of options to celebrate traditions old and new. You could do a classic herb-roasted turkey or spice it up and make turkey tacos. Serve up a go-to shrimp cocktail or use Simple Truth wild-caught shrimp for your first Cajun risotto. Make creamy mac and cheese or a spinach artichoke fondue from our selection of Murray's cheese. No matter how you shop, Kroger has all the freshest ingredients to embrace all your holiday traditions. Kroger, fresh for everyone. Sì, sì, è veramente una voce interessante, travolgente, lo si vede soprattutto quando fa le cover. Ad esempio ha fatto quella di Pink, Just a Killer Reason, con Alex, mi pare. È una versione bellissima e credo sia l'unica cosa rilevante di tutte le puntate del serale di Amici che ho visto a livello di musica, di ballo non parlo, non me ne intendo. Però devo dire che veramente è un'edizione deludente, ho visto poco e sempre meno vedrò, ma sicuramente la voce di Sissi è una di quelle cose che merita di essere accolta e di cui è giusto che io ne parli. Perché comunque l'anno scorso di Amici ne ho parlato ogni uscita, è vero che c'era il Covid, eravamo dentro casa la sera, quindi non uscivo il sabato sera, tanto valeva lavorarci un po' e cercare di fare due soldi. Però io ci rimango pure a casa un paio d'ore se qualcosa mi interessa, ok? Sicuramente non questa edizione di Amici. Comunque, per questo motivo in questo podcast, in questo episodio cerco di racchiudere un po' tutto il mio pensiero, no? E lei, diciamo che mi piace perché riesce con la sua voce a prendere testi orribili, testi banali, testi dei varianti del cazzo, ma li riesce a rendere interessanti, riesce a costruire delle canzoni belle grazie solo al suo talento, grazie solo alla particolarità di questa voce. Sembra un po' San Giovanni affemminile, stilisticamente parlando, il tono sto dicendo, solo il tono. I tempi d'oro San Giovanni, non quello di adesso. Scherzi a parte. Anche questa canzone, non è chiaro che quando... Ragazzi, se un testo è sottoscritto per ragazzini e adolescenti, ci sarà una rima che finisce con la svolta, ma se ti ami sarà la svolta, dice nel ritornello. Queste sono quelle cose che io reputo imperdonabili per un testo pop, perché veramente è una... Questo testo, che è un po' più complesso, tra l'altro, di quelli suoi precedenti, a frutta dei concetti molto belli, interessanti, l'amore, ama tu, no? Però il modo in cui sono posti è proprio come per dire, scritta a tavolino. E sì che le canzoni si scrivono a tavolino, però devono avere un minimo di ispirazione. Questa qui no, questa non ha nessuna ispirazione. Questa è frutto di un team di autori che si è messo a lieto, facciamo una canzone d'amore un po' triste, un po' ballad per i ragazzi, per il singolo nuovo. Ed è il motivo per cui questo singolo non funzionerà neanche a livello, diciamo, discografico. Perché anche quest'anno, tra l'altro, in modo particolare ad amici, la prima ondata di inediti è stata forte, dopo Tarallo. Perché? Perché all'inizio i ragazzi portavano comunque un qualcosa che si portavano già da fuori. Quindi non è che il talent ha lanciato le hit di canzoni già pronte, semplicemente a cui bisognava dare una community. Ma le canzoni che sono nate durante il percorso di amici non sono state molto apprezzate poi dal pubblico. Per mille motivi. Uno tra questi, poi per ogni singolo soggetto possiamo parlare, uno tra questi, in questo caso, di questa ragazza che a differenza di un LDA se le scrive e che quindi dovrei affrontare un altro discorso che riguarda LDA, questa ragazza invece è la dimostrazione che c'è un team di autori che cerca di scrivere e fa il sentimento, ragazzi, come si fa a fare con la testa una cosa che si deve fare col cuore, no? Quindi praticamente io ho pensato questo. La canzone a livello di testo è veramente fiacca, però lei la canta talmente bene e il concetto è talmente evergreen che insomma comunque è una bella canzone, non è una brutta canzone anzi. Ma diciamo che proprio anche lei si è presentata con la come come, cioè veramente ridicolo, cioè tre parole sulle cuore amore, con la differenza che quella era veramente atomica, dammi tre parole. Era veramente, non lo so, ci ha toccato a tutti. E invece questa roba qui, eppure quella canzone ha stravenduto, ha strafunzionato, è strandata in radio, perché? Perché ragazzi, lei canta da paura, quindi questo da dire su Sissi. Canta delle belle canzoni, cercatele bene, perché come vedi le cose studiate a tavolino non portano neanche i numeri, però se uno porta la qualità, la qualità vocale ce l'hai, porta un testo di qualità fatto bene che non sia per ragazzini ritardati, ma magari per menti un po' più acute magari, cioè tanto comunque il calo a livello dei numeri lo fai, perlomeno tanto vale farlo con dignità, cioè cazzo, poter dire sì ho fatto il calo perché ho voluto fare buona musica, invece no, ho fatto il calo perché ci ho provato talmente in maniera spudorata che alla fine ce l'ho presa in culo, perché così va a finire se si segue questo andazzo. E mi dispiacerebbe, mi dispiacerebbe, cazzi su, che cazzo me ne frega a me, però insomma andiamo a vedere i fatti concreti, non male, no? Cioè cazzo c'è un grande talento a disposizione, perché buttarlo così? Ma soprattutto chi cazzo ci lavora come autori ad amici e compagna bella nelle measure? Datemi una svegliata, cioè svecchiate, iniziate, cioè la discografia la fate voi, tutti devono inchinarsi davanti alla qualità se la qualità è portata, portata. Babbò. Sto zitto perché veramente mi sale proprio il nervoso quando sento certi testi. Questa è una canzone potenzialmente veramente devastante, buttata lì, ma del resto di che stiamo a parlare, stiamo a parlare di amici, ecco perché non lo seguo più. Ebb dai su, non è che tutti gli anni ci sta il San Giovanni di turno. L'eleganza incontra la tecnologia. Lancia Ypsilon, da oggi nei nuovi allestimenti Oro, Platino ed Eco Chic GPL. Partono gli incentivi Lancia. Gamma Ypsilon Hybrid da 139 euro al mese, con finanziamento interessi zero e rottamazione. E dopo un anno puoi tenerla o sostituirla. Anticipo 1600 euro, 11 rate da 139 euro, e rata finale 12.058 euro. Tanzero TAIG 381, offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 dicembre.